Il nostro lavoro consiste nel prendersi cura delle nostre piante. Guidati dalle stagioni, noi seminiamo, noi concimiamo, siamo agricoltori. Ma ancora non possiamo padroneggiare tutto. Il clima è sempre imprevedibile. A volte ci sono gelate, a volte piogge inaspettate. Questi periodi di stress possono influenzare le nostre piante. Quali sono le conseguenze? La pianta non può raggiungere il suo potenziale di rendimento massimo. Questo è il motivo per cui abbiamo creato Delfan Plus. Delfan Plus, spruzzato sulle piante, le aiuta a sopportare gli stress esterni, climatici e fitotecnici. Ma come funziona esattamente Delfan Plus? Per capirlo, dobbiamo parlare la lingua delle piante, comprendere i suoi bisogni. Diamo un'occhiata più da vicino. Una pianta è una fabbrica molto sofisticata. Le radici pompano i nitrati per le foglie, che vengono poi trasformati in aminoacidi e infine messi insieme come proteine. Ma a volte accadono eventi imprevisti. I nitrati non arrivano alla fabbrica delle foglie. Gli aminoacidi vengono drasticamente ridotti. La fabbrica cammina a stento. Questo è il momento di fare intervenire Delfan Plus. È composto da 17 aminoacidi differenti. Spruzzato sopra la pianta, Delfan Plus viene rapidamente assorbito dalle foglie della pianta. La fabbrica si riprende e torna a correre a piena capacità. Risultati? Le nostre piante sono in gran forma e possiamo contare su una buona reddittività per la fine della stagione. Grazie a Delfan Plus. Grazie a Delfan Plus.